La polizia del commissariato di Modica ha tratto in arresto un modicano di 25 anni, responsabile del reato di estorsione ai danni di un concittadino, titolare di una nota pizzeria del centro storico. Il giovane, alcuni mesi addietro, aveva lavorato in prova per due weekend presso la citata attività di ristorazione, non continuando nel rapporto lavorativo per decisione valutativa del titolare. Pertanto quest'ultimo, dopo aver regolarmente retribuito il 25enne per le giornate lavorative svolte, lo ha informato della propria decisione di interrompere il periodo di prova, liquidandogli le spettanze dovute per i giorni di lavoro svolto. La decisione del ristoratore non è stata ben accettata dal giovane, che ben presto, per vendicarsi del torto subito, lo ha contattato, inviandogli messaggi estorsivi ed intimidatori. In particolare, l'uomo ha intimato all'ex datore di lavoro la consegna della somma di 500 euro a titolo di risarcimento dell'interruzione del rapporto di lavoro, sotto la minaccia di un male ingiusto in caso di rifiuto, fissando un appuntamento nei pressi dell'ospedale per la consegna del denaro richiesto illecitamente a titolo di ristoro. Intimorito dalle minacce subite, il titolare del pub ha deciso di chiedere aiuto alla polizia di Modica. L'immediata attività di indagine avviata dalla polizia di Modica ha portato all'arresto nel 25enne, nel momento della riscossione della somma stabilita. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per i suoi pregiudizi di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato condotto presso gli uffici di polizia dove è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di estorsione e condotto in regime di detenzione domiciliare verso la propria abitazione.